Marco Sospece, iniziamo con un commento sulla gara di oggi. Una gara molto equilibrata, sapevamo che non sarebbe stata facile, l'avevamo preparata magari in un modo diverso di come siamo abituati di solito, siamo riusciti ad andare in vantaggio e nonostante dopo essere rimasti in dieci abbiamo avuto anche qualche occasione per poterla chiudere. Non l'abbiamo chiusa e purtroppo gli episodi ci hanno condannato, però diciamo che guardiamo avanti, guardiamo avanti come abbiamo sempre fatto. Alla luce di quanto detto, lo considerate più un punto guadagnato o due punti persi? No, visto che anche in dieci abbiamo avuto anche le occasioni per chiuderla, per me sono due punti persi, però alla fine gara è arrivato un punto, ce lo prendiamo, ce lo teniamo stretto e continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Marcos, qual è stata la chiave per ripartire questa settimana? Noi siamo una squadra che ha grande consapevolezza, crede molto nei propri mezzi, sa che alla basse di tutto ci deve essere del lavoro ed è così che abbiamo affrontato la settimana, partendo dal lavoro, il lavoro ti dà fiducia, ti dà consapevolezza e come ho detto prima bisogna guardare sempre avanti. La sconfitta di Lecce collegandosi non ha cambiato nulla nella vostra mentalità e nel vostro modo di giocare? No, nella nostra mentalità assolutamente no, ci ha lasciato degli insegnamenti, questo senz'altro perché prendere sette gol, anche se il Lecce, fa male. Però, come ho detto anche prima, partiamo dalla nostra grande consapevolezza, sappiamo che è un campionato duro, che dobbiamo lavorare tanto e appunto prendiamo il risultato di Lecce, impariamo e continuiamo avanti. Per finire invece dopo questa prima fetta di campionato, che idea si è fatta di questa Serie B? Penso che la Serie B sia un campionato molto equilibrato, ma si vede, non c'è bisogno che io lo dica, è che avendo così tante gare ravvicinate bisogna essere in grado subito di azzerare e ripartire più forte di prima, perché poi alla fine è questo quello che ti porta dei vantaggi o ti porta a raggiungere gli obiettivi prefissati. Grazie.